Saranno presenti circa 600 motociclisti al Motorelli d'Abruzzo, la manifestazione di motocross in programma a Montesilvano dal 3 al 5 maggio prossimi. Le gare saranno valide come prima prova del campionato italiano Raid TT e seconda e terza prova del campionato italiano di Motorelli. Il calendario delle prove è stato presentato questa mattina a Pescara alla presenza dell'assessore allo sport Guido Liris, il quale ha rilanciato il claim coniato dagli organizzatori Montagna Portata di Mare. È la prima volta che un evento di questo genere, infatti di carattere nazionale, dove è prevista la partecipazione anche di motociclisti stranieri, si svolge in Abruzzo. Per l'assessore Liris si tratta di un'occasione straordinaria di promozione del territorio, poiché le prove speciali interesseranno i centri dell'entoterra abruzzese.